Numeri da record per la settima cronoscalata a Mercogliano-Montevergine dedicata a Michele Porraro. 151 ciclisti provenienti da tutta la regione con presenze anche da Brindisi, Bergamo, Campomarino e Taranto a scalati tornanti per raggiungere il santuario. Nella classifica generale successo per gli amatori della bici di Atripalda e secondo posto per la ciclistica Avellino. Ad aggiudicarsi l'ambito trofeo è stato il sorrentino Raffaele V del team ciclismo sorrentino con il tempo record di 27.48 ha preceduto di soli 3 secondi il cavese Antonio Borelli del team Fisciano. Sul gradino più basso del podio Gaspari Cappiello del team ciclismo sorrentino con il tempo di 29.06. Prima classificata tra le donne a Rossella Diezio della Rocca Bike. A tagliare il nastro insieme al presidente della Proloco Mercogliano Vittorio D'Alesso il delegato del CONI provinciale Giuseppe Saviano. Una grande giornata di sport che è servita a far conoscere anche le numerose eccellenze irpine e i tanti ciclisti provenienti da fuori regione.